bella raga oggi andiamo a filmare un po di trail ricordatevi la partenza sempre qui al parcheggio delle scuole all'autolavaggio cercate su google maps scuole di galzeniano terme il link lo trovate sotto qua e da qui parte il giro a questo punto andiamo a prendere la cingolina qui sulla destra che è la strada che ci porta su fino a zona roverello tra il monte gallo e il monte rua e quindi proseguite per di qua ma un po che le musichette sottofondo è questa e ora questa ottimo arrivati qui alla fine della strada bisogna girare a destra bisogna girare a destra andiamo verso di qua stradisti maledetti guardatevi l'azienda gritturistica le breccane che le breccane in dialetto cosa cosa voglio dire le breccane i campi in breccana simbre cana nel senso sei nascosto sei mezzo a zone poco visitate cosa dice l'itiomen qua che fame che fame com'è il cancatrail spiegalo in poche parole l'attacco è piuttosto castutto sono rocce qualche troppini inizia a snodarsi in bei curvoni abbastanza scorrevoli intervallati sempre da costacolino tanto per rendere la cosa più piccante morale a favole è cancaro cancaro parco regionale colli ugani la fontanella quindi buona a sapersi una fontanella che distribuisce solo birra solo birra andatevi allo svincolo di girare a destra e non prendere quella ma prendere questa se siete fortunati qua c'è anche il pia di raro il pia di raro che oggi non c'è però potreste trovarlo svincolo super di qua non prendere la variante che vi porta verso giù sempre verso su questo svincolo qua sempre dritti mi raccomando non andate super di qua se andate super di qua dovete farvela tutta a piedi come piace a oso giusto? esatto via di qua potete andare per l'asfalta o per di qua di qua salita a piedi di la pedalata raga non preoccupatevi di scalini siete sulla strada giusta stiamo andando verso su dovete spingere in questo punto dovete sudarvelo ma siamo quasi arrivati eccolo eccolo neanche è tempo di dirlo e siamo risaliti in sella siamo arrivati qui inizia la discesa e per chi non sa la strada cos'è che fa? segui i cartelli i cartelli e quindi via verso discesa adesso bene raga partiamo con la discesa dobbiamo ancora entrare sul kanka train ma qua facciamo un pezzettino di trasferimento oggi abbiamo il bruciacchiotto grazie si calmo calmo è che c'è una ruota nuova da testare eccolo raga il svincolo è proprio questo qua dovete andare via qua a destra e qua partiamo qua c'è un po' di triadino da fare però ci scaldiamo meglio del bombe qua potete prenderla a destra o a sinistra noi preferiamo prenderla di qua e via aspetta bruciacchiotto che ti perdo ok e qua raga siamo dentro il kanka trail ringraziamo il mitico jump per averlo creato aperto a tutti oggi pubblichiamo è ancora in fase di installazione molto flow un po' scassatino su certi punti è duro vai bruciacchiotto si sta anche aprendo bene è duro come vedete non è ancora sfondato bene occhio qua il canalone se c'è gente che passa perché guardare a destra e a sinistra qua piccolo droppetto siamo quasi arrivati verso la fine e qua raga finisce il kanka trail spero vi sia piaciuto vi facciamo vedere anche il tratto successivo a noi piacciono le pietraie e andiamo spero che non mi si stacca la GoPro abbiamo Kim in prima posizione e il bruciacchiotto a seguire bello così occhio i pedoni oto 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 buona tutto grazie abbiamo avuto un piccolo incontro con i camminatori bello così rocco e anche roll bene raga aspetto un po' più flow potete mollare i freni e ci troviamo quasi a ristorantino passaggino nuovo per il bruci bene anche per questa l'abbiamo fatta vi portiamo a vedere la stradina che segue per di qua che vi porta verso le creste seguiamo per di qua e qua c'è un po' di tecnico salita, discezza bella pedalattina e ci vediamo fra poco ciao 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 ciao